ciao a tutti ragazzi riaccomi qua son megaticker vi porto un oggettino da farvi vedere ma prima di entrare nel merito voglio ringraziare davide di tolla che è un ragazzo youtuber giovane si posso dirlo alla metà dei miei anni ma veramente veramente promettente vi lascio il link in iscrizione andate a guardare il suo canale a iniziare l'ho conosciuto è stata una fortuna l'ho conosciuto da poco ma i contenuti sono veramente veramente interessanti oltre a questo appunto lo voglio ringraziare perché molto più avvezza di nuove tecnologie e di editing mi ha aiutato a creare il mio nuovo banner era un po che lo volevo cambiare ho incontrato lui mi ha aiutato ed ecco il risultato qua sul canale anzi lasciate i commenti fatemi sapere se vi piace se è di vostro gusto e vi voglio chiedere un'altra cosa se reputate che debba cambiare personalizzare a questo punto del cammin di mezza vita mia è anche la foto diciamo icona del canale in questo momento c'è un guardiano di destiny per chi fosse avvezzo del gioco ma passiamo invece alla recensione e al non so neanche come chiamarlo ragazzi vi racconto questa cosa mio figlio nove anni appassionato di pesca beppuzzo grazie che l'ha instradato verso questo percorso è veramente carino comunque cercava qualcosina per simulare a casa appunto una pesca io ho scartavelato su internet mi sono fatto allettare da questo bus pro shops e tra l'altro allettato dal fatto come vedete qua c'è l'accessorietto la canna da pesca col mulinello figata pazzesca bimbo di nove anni io lo porto 19 euro costa una mazza io lo regalo ebbene il detto chi più spende meno spende non non è non è una cavolata stavo dicendo una parolaccia ma a dicembre mi sono ripromesso che parlerò bene sul mio canale e gliel'ho comprato l'abbiamo provato insieme grossissima delusione ragazzi è veramente una cosa angosciante non sto a giudicare il gioco che per carità non ci abbiamo neanche più giocato perché ci siamo rimasti veramente troppo male ma comunque non è un gioco un giocone ma la cosa veramente angosciante è questo oggetto vi faccio subito vedere il perché volevo sbattere l'anzi l'ho sbattuta la scatola stizza e nervoso allora praticamente si inseriscono i joycon e qua simulo una bella canna da pesca tiro su tiro giù avvolgo il mulinello va bene andiamo a vedere vi faccio vedere però voi forse la non lo vedete ecco qua ve lo avvicino adesso però spaccherò tutto con la panna da pesca guardate cosa succede io di fatto tiro simulo la ecco ce l'ho fatta al primo colpo incredibile adesso vedete vi avvicino qua cosa succede che la lenza è giù io voglio andare col mio mulinello a recuperare la lenza lo giro ma cosa succede che la lenza resta lì perché non è che se giro più veloce funziona o se giro più piano funziona no no quello resta lì e sapete perché perché adesso ve lo dico questi geni che hanno inventato sta 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 schifezza ragazzi perché non funziona quindi è una schifezza e di fatto hanno dato un movimento troppo poco ampio vedete che la fa qualcosa adesso basta dopo poche c'era smeni poi torna sulla lenza di fatto comunque stavo dicendo che il movimento è troppo poco ampio e il il la switch non avverte appunto questo come se ci fosse un mulinello enorme per farlo funzionare questo non funziona invece vi faccio vedere di fatto tirando fuori il controller tirando di nuovo se mi viene alla prima mamma mia sono un campione vi faccio vedere invece che con movimenti molto più ampi sentite vedete di fatto acqua pescato anche un pesce va bene comunque con questi movello perso ok però con questi movimenti più ampi di fatto io vado a recuperare la lenza adesso qua mi abboccano tutti oggi ragazzi vi giuro che non ho mai preso un pesce in vita mia con questo gioco adesso che sto girando il video ovviamente hanno deciso di abboccare tutti ad ogni modo ragazzi il il discorso è molto semplice questo oggetto non funziona quindi io ve lo sconsiglio vivamente non fatevi prendere dalla 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 cosa di risparmiare soldi dire che figata c'è un accessorio ma come quando mai mi capiterà più di trovare a 19 euro un prodotto del genere spero appunto mai perché è totalmente totalmente inutile a onore del vero c'è anche la possibilità di escludere gli accelerometri quindi poi tirare con la lenza così avvolgere così usare le manette in un gioco classico probabilmente anche in portabilità eccetera però ragazzi di fatto io da un gioco di pesca con una canale pesca mi aspetto quello non mi aspetto di dover andare a usare la switch così quindi niente ragazzi sono molto demoralizzato spero che questo video sia utile a tanti che come me insomma rischiano di finire a buttare via pochi soldi ma comunque a buttarli via per questo video tutto vi lascio il link anzi no anzi no non ve lo lascio il link in descrizione perché appunto non potrei mai mettere un link di un prodotto che non vi consiglio quindi non ve lo lascio però vi lascio il link del mio gruppo playstation 5 su facebook come come sempre adesso alla fine del video lo dico registrate vi voglio creare una bella community ve lo lascio il link e andate numerosi siamo 130 135 persone ma confido che diventeremo tanti e creare appunto la community bella dove parlare della nuova amatissima console della sony ragazzi ancora vi saluto ci becchiamo alla prossima e ciao